Movida Loca Television Movida Loca Television Movida Loca Television Per te sarei disposta sempre a fare quello che vuoi Il giorno di sole guardare gli occhi tuoi Telefonarti e dirti sempre che fai parte di me Il giorno di sole abbandonami a te Ti prometto ancora io vorrei Darti il cielo perché il cielo tu sei Manca poco a mezzanotte oramai Fammi entrare, ti voglio amare Ti voglio tanto bene Ti voglio tanto bene Mi piacerebbe far l'amore sempre solo con te Il giorno di notte accadezzare te Restare nel tuo letto sempre Non andare più via Il giorno di sole Per tutto il ventetto Movida Loca Live Television Dove i grandi eventi contano Io ci sono e accanto a me Emiliana Cantone, benvenuta Che paura Mario Ciao Non aver paura Ho visto grintoso, uno sprint bravo Vabbè ma tu sai che io sono così no? Eh certo, mi ricordo benissimo Ci siamo cresciuti Ormai siamo irresistibili Ebbè più che mai Dopo questo grande evento Targato Ischia Insomma il tour di Emiliana Cantone continua? Non finisce, continua Anzi siamo proprio all'inizio E dopo questa bellissima serata Direi che insieme a te Quello che sono è giusto per ricordare un evento Perché mi vede protagonista Insomma su tutti i fronti Perché il 9 settembre Si festeggeranno i miei primi 10 anni di carriera E tu ne sei testimone Sei parte integrante di questo evento Ebbè parliamone ancora di più Perché il 9 settembre a Casalnuo In provincia di Napoli Pochi passi da Napoli In piazza, municipio Emiliana Cantone in? Concerto, verza E come si intitola sto concerto? Si intitolare Emilianissima 10 Appunto per festeggiare questi 10 anni di carriera E' un evento assolutamente gratis Per tutto il pubblico Quindi potete venire tutti Iniziamo alle 21 E sarà una festa tra amici Per cui voglio assolutamente La mia famiglia Le persone che mi vogliono bene Gli amici E soprattutto quelli che non ci conoscono da vicino Insomma Ebbè ovviamente Serata filmata E registrata da Momida Local Live Television Evento condotto da me Mario P Insomma i presupposti per un grande evento ci sono tutti E poi soprattutto è la prima volta che si fa un evento Insomma tu è il mio protagonista Perché le altre volte sono state partecipazioni Feste di piazza Invece questa volta si festeggiano i miei 10 anni Quindi canzoni, le mie prime canzoni Le ultime e tante sorprese Quindi vi aspettiamo Vi aspettiamo Casa al Novo di Napoli 9 settembre Ore 21 9 settembre Ore 9 Esatto Esatto Un abbraccio a tutti Ciao Movida Local TV Ciao Movida Local Television Per la tua pubblicità su Movida Local Television 331 614 1500